Circolo di donne Il cerchio è il simbolo del femenile, della luna, che è ciclica. È l'origine, l'inizio e la fine, dove la energia è ricettiva. Dove l'importante è condividere, non c'è leader, non c'è un capo. I circoli risalgono a tempi antichi e a culture diverse. Sono presenti oggi. Ad esempio, i circoli dei nativi americani iniziano con un rituale per onorare il loro spazio sacro, la madre terra. Accendono una candela mentre dicono una preghiera o recitano una poesia per onorare lo spazio e il tempo che condividono. Quindi, siate creative e sviluppate rituali di apertura e chiusura, che corrispondano alla identità del tuo circolo. Adotta i propri principi del tuo circolo. Puoi creare i circoli che desideri. Le tipologie di circoli sono illimitate. Possono essere di tanti tipi, spirituali, per la lettura, per le madri, artistici, ecc. Creazione di un circolo della pace. Uno spazio sano, per tutte, e un ambiente sicuro. Principi del circolo femminile utilizzati fin dall'antichità. Permettere la parola a una persona alla volta. Promuovere una comunicazione aperta e franca. Ascoltare attivamente, senza pregiudizi. Ascoltare con compassione. Offrire esperienze invece di consigli. Invitare al silenzio quando c'è un dubbio o necessità. Condividere la leadership e le risorse. Questo tempo sacro, creato per sé stessa, l'aiuterà a costruire e trasformare molti aspetti della sua vita, condividendo con gli altri, aiutando la comunità e il pianeta, e costituirà un legame potente.